Finito ieri sera il Consiglio europeo. Prima una rottura, poi una ricucitura. All'ordine del giorno c'era il coronavirus, cioè quello che stiamo vivendo tutti i giorni, noi chiusi in casa e chi deve ancora andare a lavorare. Il documento finale è veramente un testo molto striminzito e viene da interrogarsi a fondo su che cosa sia questa Unione europea e quanto in questo momento avremo bisogno di essere tutelati, difesi, di avere una prospettiva e che questo manchi dentro questa attuale realtà dell'Europa. Cerchiamo di capire cosa è successo. È successo che si sono messi alla fine d'accordo su un minimo indispensabile, cioè un minimo di coordinamento sulle politiche sul virus. La cosa fondamentale è l'accesso ai finanziamenti della BCE, ma poi sul noto di come condividere ciò che sarà necessario per affrontare la crisi economica che si accompagna alla crisi sanitaria lo scontro è molto forte. Ed è molto forte perché sta dentro il cuore di come è costruita questa Europa. Io penso che adesso dobbiamo cominciare a ragionare, a interrogarci perché è il momento. Siamo in un passaggio che fa venire in mente una vecchia poesia il morbo in furia, il pan ci manca, insomma avremmo bisogno di un cambiamento reale, storico. E invece questo non c'è. Partiamo da ciò che fortunatamente è stato blocchiato per adesso, cioè è stato blocchiato in ricorso a questo incredibile meccanismo che si chiama il MES, per cui se sei in difficoltà dentro un'Unione Europea, che dovrebbe essere un'Unione politica di solidarietà, e non semplicemente un mercato unico come è stato descritto anche dalla Presidente von der Leyen intervenendo al Parlamento, scattano appunto i meccanismi propri della politica, della politica di un'Unione che sia tale. Questo meccanismo invece prevede dei prestiti che poi sono condizionali da rientro. Si dice no, non sarebbero condizionati, ma per fare questo bisogna cambiare lo stato di questo meccanismo, che è un meccanismo appunto fatto tra stati che versano dei soldi e poi li distribuiscono avendo, come sempre accade per le finanziarie, dei requisiti per essere tranquilli del fatto che si rientri. E lo abbiamo visto con la Grecia che cosa significa essere tranquilli, cioè l'imposizione di quelle politiche peraltro scellerate che sono state fatte in questi anni a seguito dell'impalcatura di questa Unione Europea, di Maastricht, del patto di stabilità e del modo con cui è stata affrontata la crisi del 2008, di cui è stato protagonista un personaggio come Mario Draghi che adesso riappare sulle pagine dei nostri giornali dicendo che bisogna fare tanto debito da parte degli stati. Lui ne ha fatto molto scaricandolo sugli stati, quello privato delle banche attraverso l'emissione di 15.000 miliardi di euro che però sono finiti sostanzialmente dentro un meccanismo finanziario che non ha rafforzato nello Stato sociale e nell'economia europea. Il problema è precisamente cosa impedisce all'Europa di rafforzarsi economicamente e socialmente come sarebbe necessario. e qui la riflessione va appunto alle sue fondamenta. Si dice che la Germania non vuole gli eurobondi. Ebbene appunto bisogna ricostruire questo percorso, questo passaggio, chi ha più anni se lo ricorda, il passaggio che porta dopo l'89 alla unificazione tedesca che fu una cosa molto grande. fu concesso, fu permesso giustamente alla Germania di riunificarsi ma questo doveva diventare il motore della costruzione di un'Europa unitaria, democratica. Al contrario invece ha prevalso un'idea che è quella contenuta nel Trattato di Maastricht di un'Europa fondata appunto sul mercato ma poi sostanzialmente un'Europa che considerava con il crollo dell'89 dei regimi del socialismo reale finita un'epoca e aperta quella per cui ciò che conta è precisamente il mercato, il mercato finanziario che sta dentro questa globalizzazione insensata che abbiamo vissuto in questi trent'anni. Un'Europa cioè che andava in direzione opposta delle ragioni con cui era stata iniziata nel dopoguerra. La discussione anche nel dopoguerra fu profonda, andrebbe rivista in questo periodo appunto tra chi temeva che questa Europa si costruisse in termini tecnocratici e anche sostanzialmente contro l'Unione Sovietica e chi pensava e provava a costruire un'Europa sociale. Penso al federalismo democratico di Spinelli, penso al pensiero di Rivo Berlinguer sull'eurocomunismo, a Willy Brandt dell'Hospolitik. Purtroppo dopo l'89 ha prevalso questa relazione tra un'unificazione tedesca, un'ideologia che è stata chiamata ortoliberismo e la costruzione impernata intorno a Maastricht cioè un'Europa come mercato comune in cui gli obiettivi sociali sono appesi a quello che saprà fare il mercato e anche gli elementi di cittadinanza sono particolarmente deboli perché la centralità è quella delle aziende e delle imprese. Purtroppo vediamo le conseguenze di tutto questo nel momento in cui abbiamo una crisi fortissima, drammatica. Penso una crisi epocale, come è stata l'89, come è stata una guerra, anche se non farei paragoni tra un virus e una guerra. Il virus va combattuto con la solidarietà, le guerre non andrebbero proprio fatte. Epocale è come è stata la crisi del 2008 ma di più perché siamo dentro una pandemia che mette grandi dubbi e incertezze sul nostro futuro. E qui veniamo all'oscuramento di questi leader o presunti tali che non sono in grado di rompere il tabù, cioè di definire che questa Europa deve cambiare radicalmente volto a partire dal fatto che la sua banca debba operare come una banca normale come la Fed americana e quindi debba utilizzare tutti gli strumenti che ha già a disposizione e compreso la possibilità di passare agli euro bond come forma di debito condiviso e contemporaneamente anche a cambiare lo statuto, cambiare l'ossatura di questa Unione Europea a partire dal suo trattato fondativo che così come il trattato di stabilità che nella parte fondamentale si dimostra non solo inadeguato ma assolutamente dannoso rispetto a quello che stiamo vivendo. Questo è il momento delle scelte. Penso che noi cittadini ce le aspetteremmo. Questa classe dirigente europea sembra non adeguata, non all'altezza. Io penso sempre che noi dobbiamo riprenderci questa Europa. Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. È chiaro e anche semplificabile. Se si va verso il MES andremo nella direzione che al virus abbinerà nuova austerità. Se finalmente si sceglierà la strada della condivisione del debito, dei problemi e di una nuova prospettiva economica, ambientale e sociale anche attraverso l'uso degli euro a bonde potremmo dire che è cominciata un periodo e un'epoca diversa. But intenso che si vetti a cambiare il ritorno di il riso sa quittà la nostra app. Le ritorno ha scritto un'elettante di domanda,